Grande Fratello 2024 le rivelazioni sconvolgenti di Luca Calvani e Shaila Gatta Il Grande Fratello di Alfonso Signorini continua a sorprendere con l'aggiunta di due nuovi volti noti al cast della prossima edizione. Dopo giorni di speculazioni e anticipazioni, il 22 agosto è stata ufficialmente confermata la partecipazione di Luca Calvani e Shaila Gatta, portando così a dieci il numero totale dei concorrenti VIP che entreranno nella casa più spiata d'Italia. Luca Calvani, attore cinquantenne con un passato di successo nei reality show, tra cui l'Isola dei Famosi, torna sul piccolo schermo con una nuova sfida. La sua storia personale ha fatto notizia quando, due anni fa, ha fatto coming out, rivelando la sua relazione con l'imprenditore Alessandro Franchini, con cui è legato dal 2016. Nonostante il successo nel mondo dello spettacolo, Calvani è stato in passato sposato con Francesca Arena, ma ora sembra pronto a condividere con il pubblico una nuova fase della sua vita. Dall'altra parte, Shaila Gatta, ballerina e showgirl di 28 anni, porta con sé una ventata di freschezza e dinamismo. Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e Giavelina di Striscia la Notizia, Gatta è una figura ben nota al pubblico italiano. Di recente, ha dimostrato le sue capacità anche come conduttrice del programma Snap su Canale 21, dopo aver guidato un paperissima sprint dal 2019 al 2022. La sua esperienza nel mondo dello spettacolo, unita alla sua energia e simpatia, la rende una concorrente su cui Alfonso Signorini sembra puntare molto per garantire un mix di intrattenimento e colpi di scena all'interno della casa. Con la giunta di Calvani e Gatta, il cast del Grande Fratello si arricchisce ulteriormente, promettendo una stagione carica di emozioni, sorprese e, sicuramente, ottimi ascolti. Signorini sembra avere tutte le carte in regola per un'edizione indimenticabile, e il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa accadrà quando i riflettori si accenderanno sulla nuova avventura televisiva. L'entusiasmo per la nuova edizione del Grande Fratello è palpabile, e la giunta di questi due volti noti ha già iniziato a generare discussioni tra i fan e i media. Non è un caso che Alfonso Signorini stia puntando su un cast così eterogeneo e ricco di personalità forti, ognuno con una storia interessante e un bagaglio di esperienze che promette di creare dinamiche uniche all'interno della casa. Luca Calvani, con la sua maturità e le sue esperienze personali, potrebbe diventare un punto di riferimento per gli altri concorrenti, offrendo saggezza e consigli, ma anche creando tensioni con chi non condivide le sue opinioni. D'altro canto, Shai la gatta, con la sua energia e la sua giovane età, potrebbe rappresentare la freschezza e la spontaneità, portando quel pizzico di imprevedibilità che tanto piace al pubblico. Con l'inizio dello show ormai alle porte, gli spettatori sono già in fibrillazione, pronti a scommettere su chi emergerà come leader all'interno della casa e su quali storie nasceranno tra i protagonisti. L'aspettativa è alta, e con un cast così variegato, questa edizione del Grande Fratello promette di essere una delle più seguite e commentate di sempre. Con l'ufficializzazione dei nuovi nomi, la macchina organizzativa del Grande Fratello si è messa in moto a pieno regime. L'entusiasmo intorno al reality show è palpabile, e si prevede che la nuova stagione possa superare le aspettative, grazie anche alla strategia di marketing aggressiva che Mediaset ha in serbo. Le sorprese non finiscono qui, secondo le ultime indiscrezioni, Alfonso Signorini e il suo team stanno lavorando anche su nuove dinamiche e meccanismi di gioco per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. Potrebbero essere introdotti twist e colpi di scena che non solo sorprenderanno i concorrenti, ma anche il pubblico da casa. Inoltre, si vocifera che siano in programma ospiti speciali e eventi esclusivi che potrebbero arricchire ulteriormente la narrazione del programma. Il focus sul cast, con l'inclusione di figure provenienti da mondi diversi come quello della danza, della recitazione e della televisione, è chiaro. Signorini punta a creare un mix perfetto di personalità per garantire che ogni settimana il programma offra momenti di alta tensione e grande intrattenimento. Il mondo del gossip è in fermento dopo l'ultima rivelazione di Anita Olivieri, giovane stella del grande fratello, che ha svelato pubblicamente il suo nuovo fidanzato, Alessio Conti. La notizia, anticipata da rumors e speculazioni, è stata confermata dalla stessa Olivieri attraverso una serie di scatti condivisi sui suoi profili social, dove appare visibilmente felice e innamorata accanto a Conti. Anita Olivieri, dopo le recenti polemiche che l'hanno vista al centro di discussioni riguardanti la sua presunta ricerca di visibilità, ha scelto di rispondere con eleganza e fermezza. In un lungo post sui social, la giovane concorrente del reality show ha messo in chiaro la sua posizione riguardo alle accuse di essere una rampicatrice sociale. Con un tono deciso, ha dichiarato, mi stanco di essere dipinta come una profittatrice sociale. Non mi faccio pagare nemmeno un caffè da nessuno. Se avessi voluto, avrei potuto stare con un calciatore o un cantante. Ma non è questo il punto. Ho lavorato da quando avevo 13 anni, mi sono trasferita da sola a 24 e ho studiato duramente per ottenere un master a 25. Chiunque abbia vissuto le mie esperienze ha il diritto di giudicarmi, ma deve prima passare attraverso le stesse sfide e difficoltà che ho affrontato io. Il post di Anita ha avuto un impatto immediato, con molti dei suoi follower che hanno lodato la sua sincerità e il coraggio nel rispondere alle critiche. La Olivieri ha poi puntato il dito contro i cosiddetti giornalisti e i gossipari, che ha definito incapaci e poco professionali. La sua reazione è stata un chiaro messaggio a chi specula sulla vita privata delle celebrità senza conoscere realmente le loro storie. Nei suoi ultimi aggiornamenti sui social, Anita ha pubblicato una serie di foto in cui appare felice e affettuosa con Alessio Conti. I due sembrano essere molto intimi e i loro scatti trasmettono un senso di complicità e gioia. In un video ironico condiviso da Anita, con la didascalia e il grazie per la privacy, rip vita privata, la giovane ha voluto giocare con i commenti che hanno seguito la rivelazione del suo nuovo fidanzato. Alessio Falsone, ex concorrente del grande fratello e breve fidanzato di Anita, ha anche lui espresso il suo punto di vista. In un'intervista, Falsone ha dichiarato, non vedo nulla di strano o scandaloso nel fatto che Anita stia uscendo con qualcun altro. È una ragazza bella e merita di essere felice. Non mi sento in dovere di commentare ulteriormente, perché è una persona singola e ha tutto il diritto di vivere la sua vita come meglio crede. Con queste dichiarazioni, il gossip intorno a Anita Olivieri continua a infiammare l'attenzione pubblica, mentre la giovane protagonista del grande fratello cerca di mantenere la sua vita privata al di fuori dei riflettori. La stagione in corso del reality show si preannuncia ricca di sorprese, e il nuovo capitolo nella vita di Anita potrebbe essere solo l'inizio di una serie di eventi che cattureranno l'attenzione dei fan e dei media. La rivelazione del nuovo fidanzato di Anita Olivieri ha avuto un impatto considerevole non solo nei salotti della cronaca rosa, ma anche sui social media, dove i fan e i critici si sono scatenati. La giovane concorrente del grande fratello ha utilizzato i suoi profili social per comunicare direttamente con il pubblico, dimostrando una notevole padronanza della gestione della sua immagine pubblica. La strategia di Anita sembra essere quella di mantenere un equilibrio tra la sfera personale e quella professionale, puntando su una narrazione autentica che la fa apparire sincera e a contatto con la realtà. I fan di Anita Olivieri hanno accolto con entusiasmo i suoi nuovi aggiornamenti, lodando la sua capacità di rispondere alle critiche con maturità e determinazione. Molti hanno espresso supporto per la sua relazione con Alessio Conti, vedendo in essa una prova della sua normalità e autenticità, lontana dai cliché spesso associati alle star della televisione. Questo approccio potrebbe contribuire a rafforzare la sua immagine come una persona reale, capace di gestire le sfide della vita pubblica con grazia e integrità.